Corrotti, vigliatti, tutti, tutti, senza prove condannate le persone, senza prove, senza prove, no, no, è così e basta, senza un grammo di prova condannano le persone, finisce la giustizia di Lecce, il processo si doveva spostare da Lecce, si doveva spostare il processo da Lecce, perché sono tutti colpiti, questa è la verità, il processo non si doveva fare a Lecce, perché hanno pagato, hanno pagato e basta. Un cuore tatuato con su scritto Lucia, sei mesi prima di morire Ettore, suo marito, si era fatto imprimere sulla pelle questo cuore, un suggello struggente, doveva amarla molto suo marito Lucia. Sì, mio marito mi amava molto, anche se a modo suo, nel senso che aveva tutto un suo modo di dimostrarlo, però effettivamente mi amava tanto. E lei? Sì, anch'io lo amavo molto. Parliamo di questo amore, Lucia, un amore da tempo delle mele, così? Sì. A che età vi siete conosciuti? Io avevo 13 anni e avevo appena finito le scuole medie e lui ne aveva 19. Se l'è cresciuta proprio? Sì. Ma cosa le piaceva di questo ragazzo? Perché a quanto risulta era un ragazzo un po' scorbutico, molto riservato. No, mi sono innamorata di tutto, o forse di niente, non lo so, ma in quel momento era tutto per me. Ecco, era, a quanto ho sentito dire, un po' possessivo, un po' geloso. Sì, sì. È vero che non voleva che lei studiasse? Sì, è vero, perché lui non l'aveva fatto e quindi si sentiva inferiore, diciamo, nei miei confronti, ecco, si sentiva al di sotto, in un certo senso. Un'ombra di complesso, diciamo. Sì. Però lui si avvia su una strada altrettanto nobile che è la strada dell'artigianato, perché diventa un ottimo fabbro. Comunque ci vogliono nove anni prima che si arrivi ai fiori d'arancio, ecco, e vi sposate nel 1998. 1998. Insomma. Senta, come sono questi primi, perché nove anni sono tanti, insomma, si può arrivare anche... Sono tantissimi. Si può arrivare un po' scotti anche, diciamo, al matrimonio. Come funziona il matrimonio? Allora, il matrimonio nei primi anni funziona molto bene, nel senso che si faceva di tutto, sì, beh, a parte il lavoro, avevamo i nostri hobby, si usciva, avevamo delle amicizie, avevamo frequentato anche la scuola di ballo insieme per cinque anni, insomma, quindi i primi anni di matrimonio si sono svolti veramente nel migliore dei modi. Intanto tentavate anche così di fare... Di avere un bambino, insomma, poi... Avete scomodato padre Pio, oppure... Abbiamo scomodato padre Pio, sì, perché purtroppo c'erano dei problemi. Padre Pio le ha risolti e arriva una bellissima bambina, ecco, dopo tre anni di matrimonio. Comunque, diciamo che dopo questi primi anni luminosi, gradevoli, piacevoli, insomma, cominciano ad addensarsi le prime ombre, ecco. Perché, cosa succede? Qual era il problema fra voi? Il problema, appunto, era che non c'era più quell'attenzione che c'era durante il periodo del fidanzamento. Come se ormai si dava tutto per scontato, insomma. Cioè, lo vedevo sempre più lontano... Tornava molto tardi la sera a casa, sempre di più, sempre più tardi. Insomma, neanche il tempo magari di dialogare, di scambiarsi delle opinioni, di raccontarsi il vissuto della giornata, ecco. Però diciamo che lui non andava a giocare a tennis, insomma, lui andava a lavorare. Andava a lavorare, sì, sì. Insomma, che era un gran lavoratore, insomma. Però, Lucia, in questi casi c'è sempre il problema di sesso in mezzo, ecco. Anche su quel piano, insomma, le cose stavano iniziando un po'... Si sentiva trascurata, sì. Si sentiva trascurata? Molto trascurata, sì. Comunque, Lucia, accade che una donna, quando si sente trascurata, possa anche reagire in molti modi, ecco. C'è quella che se ne fa una ragione, insomma, che si cresce i figli, si dà le opere di beni, si dà il volontariato. C'è quella che quando riesce, quando le riesce, si getta anima e corpo nel lavoro. C'è quella che il corpo lo butta da un'altra parte. Ed è stato il mio caso. Il libro che ha fatto lei. Ecco, e difatti è stata la sua scelta. Parliamone, Lucia. Chi è quest'uomo che la fa sentire nuovamente al centro di quel pianeta che si chiama Desiderio? Quest'uomo è Fabio. Chi è questo Fabio? Allora, Fabio era un mio collega di lavoro, nel senso era un'infermiera anche lui. Senta, signora Lucia, qual era la situazione personale di Fabio? Era un uomo lezzo? No, Fabio era una persona fidanzata, prossima al matrimonio. Sì. Ecco, senta, signora Lucia, ma con Fabio solo sesso oppure c'era anche spazio per i sentimenti? No, c'era solo sesso. Non c'era spazio per i sentimenti. Ma nessun senso di colpa, nessun rimorso nei confronti di suo marito? Sì, il senso di colpa c'era, ma allo stesso tempo quella relazione mi faceva stare bene, mi faceva sentire nuovamente donna e quindi l'ho portata avanti per due anni. Però lei li superava brillantemente. Senta, due anni comunque non sono pochi, insomma, e appunto come abbiamo detto Fabio trova pure il tempo di sposarsi. Sì, sì, nel frattempo si sposa. Comunque, quello che conta è che la storia con Fabio si chiude con un finale particolare, diciamo, un finale forte. Ecco, ora Lucia, noi ne parliamo, perché ne parliamo con semplicità, insomma, con sincerità. Cominciamo col dire che in un giorno di agosto, di mezzo agosto del 2005, perché stiamo parlando della conclusione della storia con Fabio, lei come al solito doveva incontrare Fabio per quelle ore, diciamo, di sesso amoroso, vai, che vivevate insieme. Ecco, ma c'è una novità. Vuol dire qual è questa novità? Sì, Fabio mi presenta un suo amico, un suo collega di là, anche lui infermiera, mi presenta a viaggio. Cioè, vi siete incontrati e lui si presenta con un amico. Ma io già lo sapevo, cioè ero già stata avvisata da lui, ero consapevole. Ecco, quindi era un'esperienza che lei era disponibile a vivere, insomma, non le creava difficoltà, insomma, quindi accetta questo rapporto, questa presenza di questo amico senza disagio. Ecco, insomma, parliamoci con chiarezza, fate l'amore a tre. Sì. Ecco, era la prima volta che le accadeva di fare un'esperienza di questo amico. Sì. Ecco, per lei appunto diceva senza imbarazzo, senza disagio, insomma. No, un po' di imbarazzo c'era, però allo stesso tempo era una cosa che ero consapevole di fare e che comunque nessuno mi costringeva a fare, insomma. Era una cosa che avevo accettato. Vabbè, insomma, a proposito di trasgressione, perché Fabio introduce questo suo amico, insomma, ecco, quest'altra presenza nella vostra intimità? Perché? Perché, prima di tutto, perché anche lui voleva vivere un'esperienza del genere e anche perché aveva delle difficoltà ormai ad incontrarsi con me e quindi aveva deciso di, insomma, di farmi conoscere quest'amico e di farmi incontrare con lui. Quindi, praticamente, porta quest'amico, diciamo, vogliamo dire un po' per scaricarla, insomma. Sì, sì. Voleva passare il testimone, insomma. Ecco. Però allo stesso tempo anche lui, voglio dire, era preso da questa situazione, insomma, da questa nuova esperienza che anche lui, da come mi diceva, era la prima volta che viveva. Ecco, quindi Fabio avrebbe voluto continuare questo gioco a tre o no? Sicuramente, è probabile di sì. Ecco, questa altra persona è Biagio. Quindi, diciamo, Fabio avrebbe voluto magari continuare e invece a un certo punto Biagio la mette di fronte a una scelta, o io, lui. Sì. Ecco, e lei come mai sceglie Biagio? Scelgo Biagio perché mi rendevo innanzitutto conto che con Fabio era una difficoltà ormai incontrarsi, in quanto lui aveva tanti problemi di famiglia. Ma solo per questo, scusi? E quindi, no, non solo per questo, sì. Poi perché comunque con Biagio, anche io, man mano, venivo presa sempre di più da Biagio, sentimentalmente. Quindi, diciamo che avevo preferito vedermi con lui anziché con Fabio, che non c'erano mai stati sentimenti, non c'era mai stato un coinvolgimento proprio a livello amoroso, ecco. Finora, signora, abbiamo parlato di Biagio soltanto per quel che riguarda il vostro rapporto trasgressivo e anche bollente, chiamiamolo così, insomma, ecco. Però non sappiamo ancora niente di lui come persona, insomma, aveva 38 anni, mi pare. Sì, sì, all'epoca sì. Quindi, mi dica lei qualcosa, ci dica lei qualcosa. Sì, Biagio era una persona molto dolce, una persona con un grande cuore, insomma. Quando lui amava una persona, in questo caso me, lo dimostrava con tutto se stesso. Questo sul piano sentimentale, sul piano caratteriale. Però abbiamo detto che lui ha 38 anni. Ha 38 anni, professione? Infermiere, professionale anche lui. Lui viveva a Corsano, quindi a 20 chilometri da Taurisano, dal mio paese. Ecco, per fissare altre coordinate, noi diciamo che siamo nell'agosto del 2005. E quindi, chiusa la storia con Fabio, quindi nel suo angolo segreto resta Biagio. Signora Lucia, dove li incontravate lei e Biagio? Ci incontravamo nella sua casa al mare. Lui abitava da solo. Comunque Biagio ha dichiarato, ha dichiarato a verbale, che quando vi vedevate non era solo per stare chiusi in casa e fare l'amore. Insomma, che ha raccontato, che facevate anche tante cose piacevoli insieme, ha parlato di gite, di passeggiate. E questo lascia pensare che, malgrado vi fosse conosciuti, diciamo, per un gioco di amore a tre, ecco, al di là del sesso si era creata fra voi una forte sintonia. Ecco, senta Lucia, per come lei lo percepiva, Biagio si era innamorato di lei? Sì, si era innamorato, molto innamorato. Però anche lei si era un po' innamorata di questo biagio? Sì, anche io mi ero un po' innamorata. Ecco, ma in tutto questo, suo marito, in quel periodo non si accorgeva di nulla? Parliamo di quel primo periodo? No, nel primo periodo no, non si era accorta proprio di nulla, nessun segnale, niente. Quindi, suo marito era molto distratto o lei era molto brava a fingere? Tutte e due le cose. Comunque, suo marito non si accorgeva di nulla, ecco, però, invece, chi si accorge della storia sua e di Biagio è qualcun altro. Chi è che se ne accorge, signora? I suoi familiari, sì, sì, i suoi familiari, sì. E come se ne accorgono? Perché vedevano la mia macchina parcheggiata vicino a casa. Cominciamo col dire, insomma, intanto loro vengono anche a scoprirlo, perché mi pare che una sorella di Biagio lavorava all'anagrafe, no? Sì, sì, prendeva informazioni su di me. Ma la famiglia di Biagio, come si comporta con Biagio? Cioè, che atteggiamento, che posizione prende? Non erano tanto d'accordo e quindi magari lo mettevano di fronte alla realtà, insomma, che comunque era una persona già impegnata, che magari era meglio se frequentava una ragazza libera, no? E come Biagio cosa aveva detto loro per tranquillizzarli? Che io mi separavo, che ero intenzionata, insomma, a chiudere la relazione con mio marito, però in realtà non è che aveva detto proprio tutta la verità. Insomma, non era... Che ancora da parte mia non c'era nessuna decisione in merito. Lei comunque non diceva che si voleva separare? No, no, no. No, 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 con lui non affrontavamo proprio questo argomento. Sicura, sì? Lui ha detto al processo invece che lei avrebbe dichiarato, che lei diceva a lui in privato, insomma, che invece aveva così il progetto di separarsi da suo marito. No, se ne parlava ma così in maniera proprio... Invece lei non era, insomma... Non ero intenzionata, no. Non avevo deciso niente. Ecco, tutto sommato poi la sua vita, bene o male, le andava bene. Tanto è vero che con mio marito, voglio dire, no, eravamo... Ci volevamo avviare verso un mutuo per la casa, insomma, per finire la casa. Quindi con mio marito c'erano altri progetti rispetto, insomma, alla storia con Biagio. Quindi, che non abbiamo detto un particolare, abbiamo trascurato un particolare, che lei, suo marito e la bambina, ovviamente, vivevate in casa con i miei genitori. Sì, in attesa. Sì, sin dall'inizio del matrimonio. Ma Biagio, insomma, che lei restasse legata al carro coniugale? Oppure, se non fai una scelta? Non mi ha mai messa di fronte a una scelta nei confronti di mio marito, oppure a dire, guarda, ti lascio se non... Se non intraprendi una vita, insomma, con me. Beh, difatti, lui ha dichiarato al processo che quando lei, come ipotesi, buttava sul piatto la possibilità di separarsi dal suo marito per andare a vivere con lui, lui le diceva, leggo testualmente, fai quello che vuoi, io non voglio responsabilità. No, non mi ha mai messo di fronte ad una scelta. Quindi, insomma, corrisponde a quello che lui ha dichiarato. A questo punto, signora Lucia, arriviamo a quello che è il cardine su cui ruota questa tragica vicenda. Un cardine che ruota su due assi. L'esistenza o meno di una patologia da cui sarebbe stato affetto suo marito e quanto l'avere lei parlato, e poi con chi ne ha parlato, di una patologia grave di suo marito, lei è stato fatale. Intanto, signora Lucia, cominciamo a fissare una scelta, che è poi il punto di inizio di tutta questa intera vicenda. Insomma, siamo nell'autunno del 2005. In quell'autunno Ettore comincia a stare male. Sì, inizia ad avere i primi sintomi, i primi malesseri. Quali sono questi malesseri? Aveva difficoltà a respirare, aveva proprio delle sensazioni di svenimento, un dolore proprio al torace, come se avesse un peso che lo schiacciava. E lei cosa, come si regola? Lei è un'infermiera, come si regola con suo marito? Insomma, andammo subito dal medico di base, ecco, per esporre, insomma, questi sintomi. Gli prescrisse subito del RX, insomma, al torace, per verificare quale fossero, insomma, da che cosa provenissero, no, questi sintomi. E anche delle analisi. Sì, sì, delle analisi del sangue. Quindi, indubbiamente, individua certi sintomi, insomma, nei sintomi, un problema da indagare. Sì, sì, infatti, sì. Sì. E cosa emerge da questi accertamenti? Ma in un primo momento, la prima volta, insomma, emerse Ghettore, era affetto da una bronchita acuta. Nessun problema che potesse creare un grosso allarme, ecco, questo, diciamo. Ecco, ora arriviamo al punto, signora Lucia, perché è da qui che ha inizio il versante obliquo di questa storia. Perché, a quanto risulta, sin da quando Ettore accusa i primi sintomi, i primi malesseri, vale a dire, abbiamo detto, intorno alla metà di ottobre. Sì, sì, ottobre. Ecco. Lei ne parla con Biancio? Sì, anche perché, essendo un'infermiere, anche molto più esperto di me, mi poteva dare dei consigli. Tra l'altro, lui lavorava in primomologia, quindi era proprio la sua materia preferita, se vogliamo. Lui si occupava proprio di problemi a alto raccio. Ma una volta ritirati i referti, ecco, lei cosa dice a Biancio? Cosa era emerso da questi referti, da questi accertamenti? Mi mantengo un po' evasiva, ecco. Nel senso, non gli vado a dire il referto nei minimi particolari. Però io devo necessariamente ricordarle, invece, cosa Biagio ha detto al processo. E prima ancora agli inquirenti. Ecco, ha dichiarato che lei gli ha detto altro, invece. Gli ha detto che Ettore aveva un tumore... Sì, sì, questo è in seguito. No, lui ha detto già che ad adesso, mentre Ettore non ce l'aveva un tumore. Ecco, Biagio ha dichiarato che lei, già ad ottobre, ha cominciato, ad ottobre, novembre, ha cominciato a dirgli che Ettore aveva questo tumore grave, inoperabile, e che praticamente gli sarebbero rimasti pochi mesi di vita. Ecco, se no, ma ci spiega perché lei si è inventata con Biagio l'esistenza di un tumore che nei fatti suo marito non aveva? Diciamo che... Sì, ho ingigantito più che altro, no? Quello che erano i malesseri di mio marito. In quanto queste bugie macroscopiche che io li racconto, in effetti appunto si basano su due fatti veritieri, se vogliamo. Perché c'è anche da dire che comunque Ettore aveva altri sintomi in seguito, aveva avuto altri sintomi, tipo ad esempio macchioline di sangue che trovavo sul cuscino, che potevano essere niente come potevano essere altro, no? Sì, ma dare alle buofie non risultava niente. Insomma, ecco, la domanda che io appunto le rivolgo nuovamente, perché lei ha detto a Biagio questo? Perché nel momento in cui io lo impietosivo con questa storia della malattia di mio marito, lo vedevo molto più vicino nei miei confronti. Cioè questo dolore, no? In un certo senso che io gli esprimevo, di questi problemi familiari che stavo avendo, fortificava il nostro rapporto, cioè io lo vedevo più legato, lo legavo sempre di più a me. Quindi, ma lei aveva bisogno di questo espediente per tenere legato un uomo che già era innamorato di lei? Sì, perché comunque lo vedevo che si univa sempre di più. Per quanto poi riguardava il futuro, c'era qualcosa che Biagio cominciava a dirle, diciamo? Mi diceva, insomma, che lui mi sarebbe stato vicino in qualsiasi modo, comunque sarebbe andato a finire la storia, lui sarebbe stato sempre vicino, insomma, mi avrebbe sempre sostenuto. Ecco, però va detto che Biagio ha dichiarato di averle parlato della possibilità di un futuro insieme solo nel momento in cui lei le aveva fatto capire che suo marito non aveva futuro, cioè non prima. Comunque, signora, al di là di questa bugia sul tumore che lei aveva confezionato per Biagio, c'è un fatto, è certo, che è a inizio dell'ottobre del 2005 e, come abbiamo detto, suo marito comincia realmente a accusare dei fastidiosi malessi, dei sintomi. Ecco, col passare del tempo, questi sintomi continuano a essere presenti, peggiorano, insomma, come stava, Ettore? Continuava a star male. Lei cosa raccontava, Biagio? E gli dicevo, insomma, che c'erano degli alti e bassi, che a volte riuscivano ad andare al lavoro, a volte no, a volte si doveva anche ricoverare in ospedale, insomma, per affrontare delle terapie. Man mano, insomma, gli raccontavo queste cose. Biagio, infatti, ha detto che lei gli diceva che la malattia stava progredendo e che non c'era più niente da fare e che suo marito aspettava la morte con rassegnazione. Questo ha dichiarato Biagio. Lei lo conferma? No, non lo confermo. Non gli ho mai fatto una prognosi di quanto potesse avere mio marito, di vita o altre cose. Questo, diciamo, era lui a farlo in base, insomma, a quello che io gli raccontavo. La domanda che uno non può non farsi è come pensava di uscire da questa gabbia di bugie che lei si era creata intorno? In tanti modi si può uscire. O gli dicevo la verità, oppure avrei tagliato nettamente il rapporto, non ci sarei andata più, gli avrei detto, insomma, quella che era la realtà dei fatti, la verità. La vostra relazione, per come Biagio l'ha raccontata, proseguiva a pieno ritmo. Sì. Ecco, con suo marito che indubbiamente ancora non si era reso conto di nulla. Sì, fino al marzo 2006. Vale a dire due mesi prima della tragedia. Ecco, perché due mesi prima della tragedia significa, diciamo, un incidente di percorso, chiamiamolo così. Ecco, vogliamo parlarne? Sì. Che succede? Una sera, mentre eravamo al ristorante, Ettore aveva fatto da padrino, insomma, aveva cresimato un ragazzo, e accidentalmente prese il mio telefonino. Da lì vido un messaggio un po' particolare. Se lo ricorda lei? Sì, c'era scritto, ciao amore, ti posso chiamare. E lì lui cambiò completamente aspetto. Praticamente si incubì talmente tanto che non a stento parlò più quella sera. Successivamente, poi ci siamo chiariti. Quindi sul momento lui non le ha chiesto conto di quelle parole? No, perché io gli tolsi il telefono dalle mani e io stessa gli dissi guarda poi ti spiego. Adesso non è il momento, insomma, di fare scenate davanti ad altre persone. E cosa le ha spiegato lei? Successivamente torniamo a casa e io praticamente la girai sui miei colleghi di lavoro che mi avevano fatto uno scherzo. Fu questa la spiegazione. Ma non discutemmo più di tanto. Ma lui ha mostrato di crederle? Sera bevuta? Sì, diciamo di sì. Però lei ha dichiarato, ha raccontato anche nel suo memoriale, che da quel momento però Ettore cambia. Sì, si chiude ancora di più rispetto a quello che era il suo carattere. Comunque, diciamo, Ettore era diventato un altro uomo. Diciamo che è entrato come in un tunnel di buio, di tristezza, di malinconia. Insomma, lei ha raccontato che qualche volta ha sorpreso Ettore in cucina. Sì, la notte soprattutto. La notte, mentre si era a piangere. Sì. Che piangeva, insomma. Sì, sì. Ecco, lei quando si verificava gli episodi di questo tipo, come si regolava? Andavo vicino a lui, lo rassicuravo, insomma lo prendevo con le buone, no? Per cercare di tirarlo un po' su di morale, ecco. E lui faceva piacere questo. Indubbiamente era un uomo ancora molto innamorato di lei, perché magari non glielo sapeva dimostrare. Non sapeva dare un uomo. Non sapeva dimostrarmelo, sì, questo. Sì, sì. Però non sapeva esprimere quello che provava. E' un uomo che sei mesi prima di morire si era fatto tatuare sul braccio. Sì, per lui era più facile farsi un tatuaggio, incidere il nome. Con su scritto Lucina. Con su scritto il nome, sì. Che esprimere a parole o a gesti, insomma. Il suo amore nei miei confronti. Purtroppo all'alba del 30 maggio 2006, Ettore improvvisamente muore. Ecco, signora Lucia, lei è stata condannata all'ergastro con l'accusa di averlo ucciso. Un'accusa che lei disperatamente rifiuta. Ora Lucia, ripercorriamo insieme i giorni, i momenti che hanno preceduto la morte di suo marito. Per capire su quale base lei è stata accusata e quali sono stati magari gli errori di comportamento da lei commessi per guadagnarsi un'accusa così grave. Sì. Perché, insomma, qualche errore lei... C'è stato. Per lo meno di comportamento deve aver fatto. Lei ce l'accusa, la rifiuta. Errore di stupidaggine. Vedremo. Nel vero senso della parola. Ecco, cominciamo con indicare qualche dato. Il 24 maggio lei porta suo marito dal medico. No, il 24 maggio lui va da solo dal medico. Il solo fatto è che lui, ho accompagnato dalla moglie Lucia, ho solo, vado dal medico, denoto un dato, questo uomo stava male. Perché sono dal medico non ci sarebbe... Tant'è vero che io non sapevo che lui quel pomeriggio andasse dal medico. Comunque... Fu una decisione sua. Quindi siamo a maggio, siamo a fine maggio. Siamo proprio alla vigilia, quasi alla vigilia della fine. Sì. Ecco, quali erano i sintomi che Ettore in quel periodo accusavano? Allora, in quel periodo lui accusava una grave astemia, tremore alle gambe, sdoppiamento della vista, un senso di confusione, insomma. Ecco, ma il medico, signora Lucia, di fronte a sintomi così allarmanti, non chiede per Ettore il ricovero in ospedale? Non lo chiede. Prescrive delle analisi e una terapia farmacologica. Quindi, fermiamoci su questo punto. Non chiede. Non chiede. Perché se fosse stato disposto, o perlomeno se il medico fosse fatto richiesta che lui fosse ricoverato in ospedale, gli avrebbero fatto un check-up e quantomeno... Completo, sì. Completo. Si sarebbe capito sul marito di che cosa soffrisse realmente. Comunque, come si pronuncia il medico sostanzialmente? Dà una diagnosi? Inizialmente non dà una diagnosi, perché lui prescrive queste flebbo per la stanchezza. Flebbo di? Vitamina, sì. Ma lei di questo stato fisico e psicologico così debilitato, deteriorato di suo marito, aveva avvertito i familiari di suo marito? Sì, sì, li avevo avvertiti. Li avevo avvertiti qualche giorno prima, insomma, che poi accadesse prima del 30 maggio. Solo qualche giorno prima. Del tumore aveva parlato solo con Biagio? Solo con Biagio, sì. Risulta che lo stesso Ettore comunque ne avesse parlato in famiglia. Sì, ne parlava anche lui. Perché, per esempio, alla cognata, che peraltro lavorava nella stessa azienda... Lavoravano insieme. Suo marito aveva detto che si sentiva male, si sentiva fiacco, debole, ripeto quello che ha detto sua cognata, e che avvertiva anche un forte, appunto, sdoppiamento delle immagini. Infatti è proprio lei che dà quella descrizione proprio di quei sintomi che lui accusava. Quindi lui di questo malesse, anche di questo fenomeno abbastanza impitante, insomma. E lei cosa ha detto? E io confermai. Gli dissi, insomma, guarda, avvisa tutti i fratelli di darmi una mano affinché, insomma, lo convinciamo a curarsi. A ricoverarsi, eh? Perché lui comunque rifiutava il ricovero. Ma perché, signora Lucia? Riesce a spiegare perché questa ostinazione di Ettore a rifiutare il ricovero in ospedale? Non lo so. Posso, cioè, oggi come oggi posso anche pensare, posso andare anche a pensare qualcosa di molto brutto. Cioè? Siccome è emerso che lui aveva assunto dell'eroina, posso pure pensare che magari avesse paura di essere, no? Scoperto. Questa è una sua opinione. Questa è una mia opinione. Certo. Comunque, suo marito non va in ospedale perché appunto dice che è inutile, dice mia moglie è infermera, si occupa lei di me, mi fa le analisi, mi fa lei il pericolo di sangue. Ecco, ma lei glielo preleva poi questo sangue a suo marito? Sì, sì, glielo preleva. Porta a fare queste analisi a suo marito? Allora, quella mattina che feci il prelievo... Quella mattina quando è? Cerchiamo di... Il venerdì, praticamente il 26 di maggio. Quattro giorni prima che lo morisse, insomma. Che succede allora? Niente, prelevai questo sangue, siccome feci il prelievo molto presto, o comunque una manovra errata da parte mia, questo sangue insomma si coagulò. Non l'ho potuto portare a farlo analizzare, però contavo di farlo appena possibile, insomma. Anche questo purtroppo è stata una mancanza. Grave? Grave. Molto grave, sì. Ecco, lei, signora Lucia, sa bene che purtroppo anche per queste analisi lei si è messa nei guai. Sì. Ecco, perché sul punto lei non ha detta la verità, che lei non l'ha detta ai familiari di Ettore. No, non l'ho detta, no. Non l'ha detta a Biaggio, perché lei ha detto sia ai familiari di Ettore che a Biaggio, invece di aver portato a analizzare il sangue di suo marito. Perché? Perché come l'è venuto di dire questa bugia? Perché lei ha detto questa bugia? Perché non volevo essere giudicata sul piano professionale, di essere un incompetente, diciamo. Perché questo l'è costato anche questo, lei lo sa. L'è costato caro perché nella valutazione degli inquirenti e poi dei giudici, cosa è stato ritenuto? Che lei non abbia portato queste analisi in laboratorio perché non voleva che emergesse, che suo marito in effetti non aveva assolutamente niente. Mentre lei avrebbe avuto un progetto sinistro e agghiacciante, cioè praticamente di uccidere suo marito come poi vedremo, e che invece cercava di farlo risultare un decesso per causa naturale. Ma in realtà non è così perché comunque... Però questo è stato, questi giudici hanno acquisto prima gli inquirenti e poi i giudici hanno... Al di là che potesse emergere, insomma, che lui non avesse niente, loro azzardavano anche che potesse emergere un'inoculazione da parte mia di psicofarmaci. Però così non era. Ecco, abbiamo detto che il medico, per sostenere suo marito, gli ha prescritto una serie di fleboclisi, di vitamine. Sì, io inizio a farle, sì, 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 certo, certo. Ecco, insomma, quante ne fate? Quattro. Quattro, ecco. E gli faceva effetto questa cura? Sì, sì, gli faceva effetto, lo faceva stare bene. Infatti... Tant'è vero, lui lo confidò al fratello. Gli diceva, insomma, che la mattina si alzava bene e andava a lavorare, cioè riusciva ad affrontare la giornata lavorativa. Poi la sera, quando allo scadere, insomma, dell'effetto del farmaco, si sentiva di nuovo giù, di nuovo, ritornavano tutti questi sintomi che lui aveva. Ora arriviamo al 27 maggio, signora Lucia, vale a dire a tre giorni dalla morte di suo marito. Sì. Durante la notte suo marito ha... Ha dei malesseri ancora... Una crisi gastroenterica molto grave. Sì, sì, molto grave. Non l'avevo mai visto in quelle condizioni. Ecco, tant'è che lei gli è rimasta accanto tutta la notte, addirittura... L'ho accudito, insomma. Ecco, lui aveva brividi di freddo e lei è rimasta stretta a lui per scaldarlo, insomma, perché lui aveva brividi di freddo. Ecco. Non chiama il medico perché comunque lui è sempre contrario, perché io avevo intenzione di chiamare la guardia medica quella notte, però lui fu proprio contrario, non bolle, insomma. Si rifiutò categoricamente. Comunque quella notte appunto lei non chiama il medico, non chiama il 118, non chiama l'ambulanza, quando appunto suo marito ha questa crisi gastroenterica molto forte, in compenso chiama viaggio. O meglio gli invia degli sms. Sì. È così? Anzitutto, ci puoi spiegare perché, anziché fare per suo marito le cose necessarie, appunto, chiamare un medico, portarli in ospedale, lei chiamava il suo amante, mi scusi. Appunto, perché ero disperata, perché lui non mi consentiva di chiamare nessuno, cioè era proprio, cioè la sua volontà prevaleva, mi imponeva proprio di non chiamare nessuno, neanche la mia famiglia che era lì in casa. Tant'è vero che poi chiamò viaggio nella disperazione più totale, gli confido tante cose, ingigantendo anche in questo caso, insomma, quelli che erano i sintomi che lui stesso stava avendo. Perché lei cosa comunica al suo amante, insomma? Che, insomma, che mio marito stava proprio male, che le sue condizioni di salute si erano molto aggravate, questo. Comunque, viaggio l'ha raccontata in un modo diverso al processo, perché ha dichiarato che in quei messaggi lei gli avrebbe invece scritto che la situazione era precipitata, che oramai per Ettore era solo questione di ore. No, non è proprio così. Dice lei che a deragliare è stata l'interpretazione che viaggio ha dato alle sue parole, insomma. Il fatto che appunto a Monte c'era quella, la menzogna sul tumore, quindi lui tutto leggeva nell'ottica di questo male incurabile, insomma. Però va detto che viaggio agli inquirenti, poi al processo, ha detto ben di più, ha dichiarato che nei giorni precedenti, alla fine di Ettore, lei di messaggi gliene aveva mandati parecchi. E in tutti lo informava che le condizioni del marito erano disperate, che Ettore aveva le pulsazioni deboli, che aveva addirittura il respiro a rantolo. Il fatto è questo. Gli inquirenti e poi i giudici sono detti, ma come faceva la signora a fare affermazioni così gravi, a dire al suo amico che il suo marito aveva le ore contate, che praticamente il marito stava per morire, quando poi non c'erano i presupposti clinici per dirlo. Capito qual è il punto, insomma? Sicuramente ho sbagliato. Lei, signora Lucia, sa bene che purtroppo tutto la bugie che lei diceva a viaggio, mentre la situazione di suo marito era una situazione difficile, grave, ma non era quella che lei descriveva. Al suo amante è stato valutato come la cronaca di un delitto annunziato. Commesso degli errori, di stupidità. C'era, diciamo, per vero quello che lei, dando credito alle sue parole, ma di avere condannata solo per delle bugie, insomma, c'è veramente da meritarsi il premio Nobel per la stupidità, mi scusi. Comunque, signora Lucia, al di là di quei suoi dissennati sms, torniamo al problema di suo marito. A quegli ultimi giorni nei quali Ettore stava effettivamente male, appariva veramente stravolto, gonfio, mani gonfie, proprio una situazione di sofferenza. Aveva un colorito brutto, appariva affaticato, insomma, ecco, una condizione di malessere che costringe Ettore, e di conseguenza anche lei, a fare una rinunzia mai successa. Cioè, lui rinunzia ad andare a una festa di famiglia, perché in famiglia ci tenevano molto. Sì, sì, la domenica del 28 maggio, sì. Ecco, dopo la festa, che succede, signora? Allora, dopo la festa, i suoi fratelli, insieme, insomma, al resto della famiglia, vennero a casa, in seguito a quello che io avevo detto a mia cognata, guarda, aiutami, no? Parlano con i fratelli, vediamo se lo convinciamo, insomma, a curarsi, ad andare in ospedale, e loro vennero, quel pomeriggio, a casa. L'interrompo, quindi è lei a fare venire? Sì, sì, le parlai tre giorni prima con mia cognata, sì. Quindi non solo per fargli compagnia? No, 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 proprio vennero, proprio perché comunque avevano ricevuto il mio messaggio. E appunto, come lo trovano, come vedono Ettore? Beh, Ettore stava a letto, sì. Poi comunque dopo si alzò, una delle sorelle in particolare, c'erano tutte, però una in particolare, insomma, mi incitava, guarda, dammi la borsa, lo portiamo subito in ospedale. Ettore alza ed andiamo in ospedale. Insomma, era l'obiettivo di tutti. E lui? No, no, si rifiutò categoricamente, anche davanti ai fratelli, insomma. C'è un discorso di prova logica che è insuperabile. Il ragazzo sta male, è malato senza ombra di dubbio. Lucia riceve, il giorno prima della morte del povero marito, in casa sua i familiari del marito, i fratelli, le cognate, una famiglia molto unita, molto affiatata, che seguiva le vicende del fratello ammalato. Il quale rifiutava il ricovero in ospedale. E disse, fatemi la carità, ricoveratelo in ospedale, fatelo anche di forza voi, perché io non riesco a farmi sentire su questo discorso. Questo si chiama prova logica di un fatto che non è possibile che un aspirante omicida, la sera prima di porre in essere quelle azioni che hanno portato a morte, secondo l'accusa, il povero disgraziato, dica, portatemelo via, toglietemelo dalle mani, perché necessariamente deve essere ricoverato, perché sta male, così come effettivamente accadeva, perché stava effettivamente male. Questo è un discorso di logica elementare. Comunque, signora Lucia, Ettore muore la notte, fra il 29 e il 30 maggio. Lei ricorda come il suo marito trascorre quell'ultima giornata, quella che sarebbe stata l'ultima giornata di vita per lui? L'ultima giornata, la mattina il primo pensiero, insomma, fu di recarci dal medico curante, per vedere il da farsi, insomma, per esporre i nuovi sintomi che erano emersi tra il sabato e la domenica. Poi? Niente, poi tornamo a casa, facemmo dei giri un po' nel paese, passammo anche da mia sorella, quella mattina, però guidavo io perché lui non era proprio nelle condizioni di guidare. E beh, lui dice che vedeva tre strade, cosa molto vera. L'immagine si triplicava. Allora, praticamente, poi lui ritorna a casa, lei però va al lavoro. Sì. Ecco, quindi, senza signora Lucia, in quel pomeriggio, perché lei va al lavoro nel pomeriggio, lei ha occasione di sentire il viaggio? Sì, sì. Il suo amante? Quel pomeriggio no. Tant'è vero che... Però gli ha mandato degli sms. No. Allora, e lui, Biaggio, sostiene che io quel pomeriggio gli mandai degli sms, però poi da tabulati telefonici, effettivamente, dalla perizia telefonica non emergono. Ecco, Biaggio sostiene che lei gli ha mandato questo sms e lei gli comunicava che suo marito era in uno stato di precoma e che si nutriva oramai solamente per feboclisi. Sì. Ecco, ma lei ha parlato di precoma con Biaggio, signora Lucia? No, più che con Biaggio si parlava di uno stato soporoso, insomma, che è quella situazione, insomma, un po' assimilare, ma non proprio, un po' assimilare. Però, voglio dire, quello che lei comunica a Biaggio è una notizia grave, una notizia, insomma, non so se... Non sei sempre un po' esagerata. È molto esagerata. Si ricorda cosa ha dichiarato lei al PM? E lei ha detto, ho detto quelle cose testuali, un po' per scherzare, un po' per liberarmi di Biaggio. Liberarsi di un amante dicendo che il marito ha un tumore, insomma, mi sembra che sta morendo. Sì, perché comunque lui mi stava molto addosso, sempre a chiedermi ma come sta, ma come non sta, insomma. Poteva essere dettato da due elementi, dall'amore nei suoi confronti, ma anche forse dalla sua professione. Sicuramente. Ecco, signora, quell'ultimo, quello che sarebbe stato l'ultimo giorno di suo marito, lei va regolarmente al lavoro? Io al pomeriggio sì, andai al lavoro. Quando torna, lei in che condizioni di salute trova Ettore? Come le appare Ettore? Lo trovo uguale praticamente come l'avevo lasciato la mattina. Quindi niente... Sempre con quella stanchezza profonda, con gli stessi sintomi, insomma. Però niente di preoccupante, più del solito, insomma. Lui mi aspettava con molto nervosismo, diciamo, perché appunto si sentiva molto stanco e voleva subito togliersi la flebo davanti, farsi questa flebo e mettersi a letto, insomma. Ecco, glieli faceva lei. Ecco, quella sera lei fa la flebo crisi? Sì, sì, quella sera lei la faccio, sì. E dopo la flebo crisi cosa fate? Cosa fa lei? Cosa fa lui? Dopo la flebo, insomma, preparare la bambina per la notte e poi guardarmo la tv a letto, tutti e tre insieme. E Lucia, cosa accade poi quella notte? Che ricordo ha lei del compiersi di questa tragedia? Io ho il ricordo della sera, no? Prima di addormentarci. Quindi guardammo un film e verso le undici e un quarto, così, entrarono i miei genitori a salutarci e verso le undici e mezzo, insomma, ci addormentamo. Sì, i suoi genitori hanno testimoniato in questa direzione, essendo i suoi genitori logicamente non sono stati creduti, insomma. Ecco, in che momento di quella notte lei si è accorto che Ettore se n'era andato? La mattina era l'alba, insomma, verso le cinque, intorno alle cinque del mattino. Cosa succede? Ci racconti lei? Praticamente io mi svegliai, mi alzai, insomma, lo chiamai per vedere se aveva bisogno di qualcosa. E lì mi accorsi, insomma, che lui non mi rispondeva. Accesi la luce e lo vidi, insomma, in una situazione abbastanza strana. Abbastanza strana? Che vuol dire, signora? Lei ha capito che era morto lui? Sì e no. Cioè, non ho... Perché lui come sembrava? Che volto aveva? Sì, che sembrava che stesse dormendo, praticamente. Quindi non aveva un viso stravolto, nulla? Sembrava che stesse dormendo, ma comunque era strano che non mi rispondeva. Lo sentivo abbastanza rigido, però mi precipitai subito, chiamai subito i miei familiari, insomma, che erano in casa con noi. La bambina? La bambina si svegliò perché è presa dalle urla. Perché io chiamava mio padre, mio padre accorse subito vicino al letto, lo prese, scuotendolo abbastanza forte, insomma, e fu proprio mio padre che mi disse, guarda Lucia, Ettore se n'è andato. Sì, Lucia, sempre per chiunque i momenti successivi a una tragedia sono momenti traumatici, però vado diritto al punto, perché è un punto nodale questo, signora. Al di là di mocare l'aiuto dei suoi genitori, perché voi abitavate con loro, lo ricordiamo, intorno alle 15, 5 e 20, lei invia due sms a Biagio. Questi sms per comunicargli che suo marito era morto. Ecco. E cosa le risponde Biagio? E che insomma era molto dispiaciuto di quello che era successo. Io purtroppo devo ritornare sempre sullo stesso punto, signora Lucia, perché anche questi messaggi indirizzati in quel frangente drammatico al suo amante, in sede di giudizio, sono stati giudicati negativamente per lei, è stata data a questi sms un'interpretazione a lei contraria, vale a dire come se lei dicesse al suo amante, mio marito è morto, finalmente sono libera, libera di stare con te. Ma non è così però, questa è un'interpretazione che hanno voluto dare loro, una chiave di lettura che hanno voluto dare loro, ma non era certo quello che volevo esprimere io, perché comunque io ho comunicato alla persona che mi era più vicina, quello che era il mio dolore. Appunto si parla di interpretazioni. Interpretazione. Comunque signora Lucia, Biagio viene a sapere che suo marito non era malato di tumore, perché dopo la morte di Ettore, la cognata di Biagio parla casualmente con il medico del 118 e apprende che Ettore risultava per arresto cardiocircolatorio. Quindi, però apprende una cosa, che non era malato di tumore. A quel punto Biagio, sconcertato, si consiglia con un amico maresciallo dei Carabinieri, dopodiché Biagio viene convocato lui al commissariato, perché racconta i fatti. Sono andate così le cose? Sono andate così. Ecco, vedi Lucia, la fiducia è un credito difficilissimo da ottenere, ma facilissimo da perdere. E appunto, per puro caso, Biagio scopre che suo marito non era malato di tumore e sconvolto scopre quindi a quel punto che lei gli aveva mentito. E il suo amante, da quel momento, da il via, ha indagini mirate su di lei e di fatto poi diventa il suo accusatore. Sì, il test è chiave, no? Ecco, ma secondo me perché l'ha fatto lui? Sicuramente per paura, di essere coinvolto in una storia più grande di lui, no? Ecco, questa storia più grande porta su un percorso preciso, insomma, lui in quel momento ha pensato che lei aveva successo suo marito. Sì, sicuramente l'avrà pensato. Il viaggio è stato un colpo durissimo, insomma, scoprire che lei gli aveva mentito. Sì, però appunto, visto che mi amava tanto, che era così innamorato, io credo che la prima cosa lui che avrebbe dovuto fare è venire direttamente da me, anziché comportarsi in questo modo, nei miei confronti. E lui una spiegazione l'ha data, ha spiegato che in quel momento... Che aveva avuto molta paura. Lui ha detto un'altra cosa, lui ha spiegato che nel momento in cui ha scoperto che lei gli aveva mentito in modo così macroscopico nei confronti sulla malattia di suo marito, dice, io l'ho odiata, in quel momento l'ho odiata. Sì. Comunque, al di là di andare dai carabinieri, ecco, dopo la morte di suo marito, viaggio come si regola con lei? Intendo la chiama, li sentite? Come si regola con lei? Sì, sì, ci sentiamo e li chiama con l'inganno e registra... I primi sono giorni di assoluto silenzio. Sì, sì, i primi giorni, sì. Quindi sono giorni durante i quali... Non ci sentiamo. Però lei continuava a chiamarlo, in quei giorni lei continuava a chiamarlo. E il 3 giugno, vale a dire a cinque giorni di distanza dalla fine di Ettore, Biaggio finalmente risponde... Sì. ... alla sua chiamata, ecco. In questo primo contatto, ecco, dopo questo blackout, insomma, il quale certamente lei deve avere sofferto. Ha sofferto? Sì, sì. Sì, ecco. Cosa le dice il suo amante? Affronta con lei il problema, questo intendo dirlo. Glielo dice che aveva scoperto che lei aveva mentito sul tumore, le chiede spiegazioni su perché lui, lei si era regolata in quel modo. No, non mi dice. Quindi non le dice neanche di essere andato. Non mi dice niente. Neanche di avere parlato quella. Non ne parla proprio, no. No, no, no. Anzi, porta avanti come se niente fosse successo, insomma. Però qualcosa te la dice sul vostro rapporto? Cosa dice? Cosa sarà di voi? Cosa sarebbe stato di voi? No, lui dice che non se la sentiva, insomma. Come un po' se magari avesse perso quel trasporto, no? Che c'era fra di noi. Tanto è vero che addirittura cerca di rigirarla sulla sua famiglia, insomma, che la sua famiglia non era d'accordo che lui avesse una relazione con una persona sposata, no? E con una figlia, però. Ma lei crede a queste parole di Bianco? Le vedevo un po' strane. Non pensa altro, insomma, non... Lei un po' di coscienza così non limpida ce l'aveva, quindi non pensa minimamente che qualche cosa... No, anche perché noi avemmo questa conversazione che lui effettivamente poi registrò in cui si svolse un dialogo tranquillo. Quindi non... In fondo in quel momento diciamola tutta, mentivate tutte e due. Sì. Ecco, da quel momento però comunque a quanto risulta Biagio alza proprio un muro di silenzio fra di voi, perché sembra proprio scomparire nel nulla, è così, signora Lucia. Ecco, ma lei accetta questa decisione? Non tanto, non l'accetto. Infatti io mi mandavo dei messaggi, insomma, di disperazione, abbastanza disperati. Ma gli manda ben trenta messaggi in una settimana, ecco. Dice che la sua vita senza di lui era finita, le ricorda di avergli scritto queste cose, che la fine di suo marito era segnata e quindi, insomma, purtroppo restavate voi due, che avreste potuto continuare a vivere insieme e che lei lo avrebbe amato sempre. Corrisponde? Sì. E lui li registra, questi li registra. Sì. Ora, ritorniamo sempre al pensiero di chi poi l'ha giudicata e le sa che anche di questi messaggi appassionati che lei ha inviato al suo amante, ecco, è stata data un'interpretazione a lei contraria, perché, ora, siccome può darsi però che certi comportamenti vengano fraintesi, ecco, lei riesce a spiegare, a dare una spiegazione convincente e dello stato d'animo che lei che la attraversava quando lei diceva queste cose a Bianca. Di sicuro stavo soffrendo tantissimo, erano di disperazione totale. Soffriva per Bianca o soffriva per Ettore? Per tutti e due. Beh, siccome per sì, per tutti e due. Però, insomma, a quanto risulta una quindicina di giorni dopo la morte di suo marito è precisamente tra il 12 e il 14 giugno voi finalmente vi incontrate. Ecco, vi rivedete. Parliamo di questi due incontri. Innanzitutto le faccio una domanda precisa. Tutte e due le volte che vi vedete Biagio continua a tacerle di avere parlato con i carabinieri? Sì, continua a tacerle. Sì, non apre bocca, non mi dice proprio niente. Sono incontri di silenzi o c'è anche dell'altro fra di voi? No, c'è anche dell'altro. L'altro è che fate l'amore tutte e due le volte? Sì, tutte e due le volte, sì. Comunque, signora Lucia, una quindicina di giorni dopo la morte di suo marito le viene formalmente indagata. Sì. Con l'ombra cupa di un'accusa terribile, insomma, di essere lei l'assassina di suo marito. Ecco, anzitutto, signora Lucia, lei in che momento, quando ha appreso che questa bufera giudiziaria era stato Biagio a scatenarla su di lei? Lo seppi dopo un paio di giorni, insomma, che mi avevano notificato l'atto di indagini nei miei confronti. Ecco, ma quando lei viene indagata con questa accusa terribile di avere lei ucciso suo marito, è ucciso, è ucciso tramite la fredoclisi che lei gli somministrava. Ecco, era indagata inizialmente sulla base di quale sospetto? Di aver inoculato degli psicofarmaci essendogli lavoravo in una struttura psichiatrica. Per quello. Vettiamo che lei inoculava questi tossici, queste sostanze tossiche, nell'ultimo periodo con le flebbo, che lei ne fa solo quattro di flebbo. Però lui stava male. E comunque lui va dal medico prima di infuziare le flebbo. Comunque, signora Lucia, contemporaneamente alla iscrizione del registro degli indagati, gli inquirenti dispongono, naturalmente, previa a riesumazione del corpo di suo marito, l'autopsia sul corpo di Ettore. Quattro mesi dopo c'è un clamoroso colpo di scena. Perché emerge che Ettore era morto per una dose massiccia di eroina. L'accusa che le è stata mossa, signora Lucia, è di avere lei iniettato la morte nelle vene indifese di suo marito e quest'eroina lei gliel'avrebbe iniettata attraverso la flebbo che lei gli somministrava. Questa è l'accusa. La quantità di eroina rinvenuta nel corpo di Attanasio e precisamente nel fegato era di un'entità minima che non permetteva, in quanto non siamo riusciti a reperire, data l'ampia trasformazione putrefattiva del cadavere, non siamo riusciti a reperire né sangue né urine. Se ci fossero stati questi liquidi, avremmo avuto dei termini di paragone scientificamente esatti e ampiamente riconosciuti nella letteratura che ci avrebbero portato a stabilire quant'era la dose e se quella dose assunta da Attanasio fosse letale o stupefacente. Signor Lucia, una domanda, scusi. Dopo avere somministrato la flebocrisi a suo marito, il kit della flebbo, cioè intendo il diffusore e l'ago, la farfallina, tutto l'occorrente, lei dove lo mette? Su un comodino a fianco al letto. Resta lì? Resta lì. Quindi quando arriva il 118 la flebbo era lì, il soccorritore lo nota, tanto è vero che lo testimonia. Quindi, intanto le chiedo, perché se fosse stato sequestrato il kit con cui lei aveva fatto la flebbo, magari fosse stato, magari lei dice, certamente sarebbe stata eseguita una perizia su questo kit e sarebbe risultato, se lei aveva appunto iniettato eroina nelle vede di suo marito, le tracce sarebbero state presenti, diciamo, in questo kit. Tant'è vero, cioè io lo dico sempre, mi hanno precluso la possibilità di difendermi, perché se le indagini si fossero avviate nel momento stesso, praticamente quella mattina, ma non c'era il sospetto. Non c'era il sospetto. Non c'era il sospetto. Effettivamente questa flebbo non verrà mai analizzata. Purtroppo no. Ecco, come si spiega la presenza di eroina nel corpo di suo marito? Che lei sapesse, signora Lucia, suo marito faceva uso di eroina? Che io sapessi? Cioè io non avevo mai notato niente. Quando è stata fatta appunto l'autopsia di suo marito, però praticamente è emerso che lui non fosse consumatore abituale di eroina. Perché l'avrebbe presa, signora Lucia? Si possono dare tante spiegazioni. Quella più, diciamo, che io posso pensare è che magari era per questo suo stato di malinconia, no? Questo suo stato di sofferenza abbia trovato rifugio, diciamo, in questa sostanza. Comunque, a proposito sempre di questa dose di massiccia di eroina che ha ucciso Ettore, se a un certo punto l'ha assunta lui personalmente, qualcuno deve pure avergli la data, ecco, questa eroina. Ma dalle indagini è emerso che Ettore per caso frequentava ambienti legati al narcotraffico? È emerso in realtà che Attanasio e Ettore frequentasse ambienti legati al narcotraffico da una agendina che fu rintracciata dopo la sua morte in casa. Furono effettuate delle ricerche per risalire ai titolari delle utenze ed uscì fuori che alcuni dei titolari di queste utenze in realtà erano soggetti legati al narcotraffico. Furono esaminati a dibattimento, confermarono il rapporto di frequentazione che c'era con Attanasio e Ettore. Dunque, non può escludersi che Attanasio e Ettore abbia potuto acquistare lo stupefacente proprio da queste persone. Questo è assodato. Questi sono atti processuali. Però è stata accusata lei, signora, di aver iniettato eroina nel suo merito. Non è stato tenuto in conto niente. Ora ritorniamo, signora Lucia, al suo rapporto con Viaggio. Presenza che comunque fa da sfondo con le luci e le ombre a questa tragica vicenda. Infatti raccontano che per circa quattro mesi, tre mesi e mezzo, insomma... Non ci vediamo più. Ecco. Quando è che mi vedete, signora? Ci vediamo occasionalmente in settembre. Proprio occasionalmente? Occasionalmente perché comunque io effettivamente vado in un luogo dove era possibile trovarlo. Quindi occasionalmente lei lo va a cercare. Ecco. Quando Viaggio la vede, ecco, come si svolge questo incontro? Che reazione ha Viaggio di fronte a lei? Parlamo. Si mise anche a piangere, a dirmi che a lui le dispiaceva, tutta la situazione che si era creata, insomma, che lui aveva avuto paura di essere coinvolto in questa storia, insomma. Perché comunque a quel punto lui sapeva che io sapevo che dietro c'era lui. Quindi, ormai era tutto venuto allo scoperto. Eh, giocavate a carte scoperte a un certo punto, tutti e due. Si. Viaggio le ha chiesto conto delle bugie che lei gli aveva detto sul tumore. Si, mi chiese delle spiegazioni. e io gli dico che effettivamente Ettore stava male, ma non c'era niente di definito. E comunque, nel momento in cui lui mi chiede perché al... no? Ti sei comportata in quel modo? Io gli dico perché comunque ti volevo tenere legato a me. E lui come ha reagito? Come l'ha trovata questa spiegazione? Accettabile? Si, l'ha accettata. Tant'è vero che comunque poi abbiamo intrapreso di nuovo la relazione. Che le abbia creduto che non le abbia creduto un dato è certo che quest'uomo comunque doveva amarla molto insomma perché anche avendo solo il dubbio più remoto che lei potesse essere stata responsabile di quel gesto agghiaggiante ecco un uomo che si mette che ritorna ad amare una donna che si insomma si lega nuovamente a lei insomma o deve amarla molto o deve credere completamente in lei insomma altrimenti non è spiegabile insomma. Sicuramente si era rigreduto. Comunque il 29 maggio 2007 a distanza di un anno esatto dalla morte di suo marito lei viene arrestata. Ecco per capire signora Uccia quando lei viene arrestata lei e Biagio stavate ancora insieme? Sì. Ecco ma la vostra storia finisce lì oppure Biagio le rimane accanto? No la nostra storia finisce lì è stato un dolore e... Senti Uccia ma in tutto questo non abbiamo ancora parlato della posizione assunta parlando di famiglie e dalle rispettive famiglie cioè la sua famiglia è inutile dirlo insomma i suoi familiari mi sono stati sempre accanto a parte che sono diciamo assolutamente totalmente convinti della sua innocenza si sono battuti e si battono e qui va spesa una parola per sua sorella Rovena perché è una persona straordinaria in prima persona che si batte in una maniera veramente come una leonessa perché venga riconosciuta la sua innocenza ma i familiari di Ettore che posizione assumono nei suoi confronti signora Lucia si mettono un muro nel momento in cui vengo indagata loro si allontanano soprattutto nel momento in cui sanno che io avevo un'altra persona al mio fianco insomma che avevo un amante questa è la cosa che li li allontana più di tutto si sono costituiti sono costituiti parti civili in assise in primo grado insomma in appello si sono poi hanno ritirato la parte civile comunque il 7 maggio 2008 davanti alla corte di assise di Lecce ha iniziato il processo per la morte di suo marito Vettore Attanasio stroncato da una dose micidiale di eroina 70 mg cioè vale a dire ritenuta una dose pari ad almeno 7 volte la dose corrente per i giudici come abbiamo anticipato e come poi risulterà in sentenza è possibile che Ettore abbia volontariamente assunto quella dose micidiale di eroina presente in sentenza quindi non lo escludono i giudici però fra tutte le ipotesi possibili quella ritenuta dei giudici certa è che a inietare tramite feboclisi quella dose letale di eroina sarebbe stata lei signora Lucia e perché lei perché sempre secondo i giudici secondo l'accusa quando lei aveva comunicato al suo amante che suo marito sarebbe morto entro poche ore Ettore non era assolutamente in pericolo di vita questa per i giudici la prova regina della sua responsabilità Lucia Bartolomeo è stata condannata in violazione del principio di diritto al di là di ogni ragionevole dubbio la sentenza di affermazione di responsabilità della Corte di Assisi di Lecce è una serie infinita di dubbi una susseguirsi di non è certo non è certo non è certo questo è il lato particolare di questa vicenda giudiziaria e siccome la Cassazione decide come è noto in sede di legittimità la sentenza non potrà che esprimere una serie di vizi di motivazione che dovrebbero portare la Corte di Legittimità ad annullare la sentenza con rinvio ad altra Corte perché decida in ordine al principio di diritto che la Cassazione dovrà esprimere signora Lucia se lei è innocente come continua a sostenere come continua a urlare ma si rende conto della quantità di sciocchezze me lo consente della quantità di fesserie che lei ha confezionate a partire da quando ha inventato a viaggio che suo marito aveva un tumore fino a comunicare al suo amante una sorta di bollettino medico sull'andamento drammatico e terminale delle condizioni di suo marito ecco di questo almeno lei si rende conto Lucia sì sì io sono abbastanza consapevole del mio atteggiamento errato ma non non posso accettare insomma di essere accusata di un qualcosa che io non ho commesso non esiste un movente non esiste niente non c'era motivo beh lei sa che il movente per i giudici è stato individuato nel fatto che lei si voleva separare da suo marito inizialmente si era questo il movente perché teneva che suo marito non le avrebbe consentito di tenere con sé la bambina inizialmente sì ma in realtà è talmente assurdo perché comunque oggi come oggi cioè con l'affido condiviso con l'affido congiunto i bambini comunque rimangono a entrambi i genitori tranquillamente io vivevo con i miei genitori avevo un lavoro quindi avevo tutte le condizioni idonee idonee per tenere la bambina qualora io avessi deciso comunque di separarmi cosa che comunque non avevo deciso di fare alla base c'è sempre questo comunque signora Lucia Viaggio il suo amante è un uomo che certamente l'ha amata moltissimo ha scatenato su di lei la tempesta di viziaria che poi l'ha portata a conclusioni tragiche insomma l'ergassolo il fine pena mai però signora Lucia vorrei leggere uno stralcio di una deposizione che Viaggio ha reso in aula non ci credo perché la Bartolomeo ha avuto esperienza di conoscerlo in quei dieci mesi e ho conosciuto una ragazza straordinaria una ragazza dolce una ragazza sensibile piena di vita io non penso proprio che sia stata la Lucia Bartolomeo a compiere un atto ecco nel verbale ci sono dei puntini probabilmente Viaggio voleva dire a compiere un atto così atroce quindi Viaggio in effetti è stato il suo accusatore è stato quello che ha scatenato su di lei la bufera giudiziaria che l'ha portata all'erga anche difesa cioè lui crede in lei ecco questo va detto ecco signora Lucia quale sentimento lei si porta dentro nei confronti di Viaggio di quest'uomo amarezza molta amarezza cosa direi per Viaggio oggi se avessi occasione di parlargli scatenare scatenare tutto questo putiferio e poi dopo dire l'esatto contrario no? sì cioè difendermi mi sembra un po' subdola come cosa quindi tanta amarezza nei suoi confronti ha distrutto la mia vita e quella di mia figlia in questa tragedia c'è qualcosa di cui lei si fa carico qualcosa per cui prova comunque un senso di colpa sì sicuramente di essere stata molto leggera di aver cercato svago e leggerezza in un momento veramente di profondo bisogno di Ettore di averlo abbandonato nella sua solitudine di questo sì sono molto affranta e non me lo potrò mai perdonare questo comportamento che purtroppo ho avuto nei suoi confronti questo sì però non posso prendermi la colpa della sua morte assolutamente non posso prendermi la colpa della sua morte perché io non ne sono veramente responsabile non posso non posso prendermi la colpa di questo sì non posso prendermi la colpa di questo sì non posso prendermi